Buongiorno a tutti, sono Davide Colombo, responsabile marketing operativo, domotica e terziare. Oggi qui a Sorrento abbiamo iniziato un percorso con la convention, con i nostri installatori che sono i top installatori in Italia dal punto di vista tecnologico. Abbiamo qui con noi 118 ragioni sociali, persone che ci seguono mai da diversi anni, circa 10 anni e abbiamo fatto con loro un percorso. Oggi abbiamo presentato a queste persone il nuovo percorso. Il nuovo percorso, il nome è Arto Automation, il nome deriva dalla fusione di due parole Arto che rappresenta l'alta professionalità, l'altro profilo tecnologico che devono avere queste persone con la Home Automation. Quindi fondendo queste due parole abbiamo deciso di chiamare questo gruppo Arto Automation. Allo scopo di diffondere la domotica, le tecnologie legate alla domotica in Italia, diffondere il più possibile. Quali sono gli aspetti, i cardini, i valori di questo programma? Sono sette. Il primo è il gruppo, noi troviamo fondemente nel gruppo, nel gruppo tra queste persone del team, nel gruppo che formiamo noi come ZB Ticino con le persone del team. Il secondo valore è la formazione, formazione che deve essere continua perché quando si parla di tecnologia non si può fare altro che essere aggiornati in modo continuo. Parliamo del terzo valore che è legato al partnership, abbiamo qui presentato una partnership con l'OV per quanto riguarda la parte di video, televisione, eccetera. E poi andiamo alla parte integrazione, integrazione di tre linee di prodotto, My Home, Vantage e Nuvo. Quindi My Home che di fatto è la base della domotica in Italia, oggi rappresenta il 50% delle case domotiche in Italia che viene fatta con My Home. Vantage che rappresenta le case fatte di alto profilo, di alto gamma, il top di quello che si può fare con le personalizzazioni. e di nuovo che rappresenta l'azienda americana che abbiamo appena acquisito, che rappresenta il top nella musica e nella diffusione sonora di alto gamma, con una qualità sonora importante. Poi a questo affianchiamo l'assistenza, quindi noi seguiamo queste persone direttamente con la nostra progettazione e con le nostre persone di assistenza tecnica. E non ultimo va ricordata la parte della comunicazione. Quindi per queste persone abbiamo sviluppato una comunicazione integrata, una brochure, un sito, un blog dedicata a queste persone. Ecco, questo è un po' il percorso che abbiamo iniziato oggi con la presentazione in convention, con la presentazione anche di nuovi prodotti. E questo è un percorso che ci porterà da qua ai prossimi anni ad affrontare una sfida importante che è lo sviluppo della domotica in Italia.